Servizi interforze sul territorio di Comiso e Santa Croce Camerina controlli su 340 persone, 160 autovetture con 6 infrazioni del codice della strada, oltre a controlli su 4 esercizi commerciali al fine di verificarne la regolarità amministrativa. In tale ottica il personale del commissario di polizia di Comiso ha anche verificato la posizione amministrativa dei cittadini extracomunitari e ha appurato l'irregolarità di un soggetto straniero di origine tunisina, ragion per cui veniva emesso decreto di espulsione e contrattenimento in CBR. Inoltre nella serata di venerdì sera, personale dipendente unitamente a personale della stazione dei carabinieri di Comiso e della polizia locale procedeva a mirare i servizi nel comune di Comiso, con particolare attenzione al centro storico, nel corso dei quali venivano identificate 19 persone e controllati 3 esercizi commerciali, con un minimarket che veniva sanzionato per mancato rispetto dell'ordinanza sindacale che prevedeva dopo le ore 18 il divieto di vendita di bevande alcoliche. A Ragusa, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti alla questura, nei giorni scorsi il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblica ha denunciato in Stato di Libertà un 44enne straniero ritenuto responsabile dei delitti di minacce e atti persecutorico messi in danno di una ragusana. Il 44enne denunciato è stato inoltre munito di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e condotto in un CPR.